Sì ragazzi, stiamo iniziando il nostro giorno a Como dalla porta Torre, è uno dei principali entrambi nel centro di città, in questo centro storico della città di Como, quindi andiamo ragazzi! Siamo iniziando a un piccolo vicino chiamato Nesso, in fronte del luogo, e abbiamo deciso di stoppare qui per ammire questa spettacolare vista, come puoi vedere! Guardalo! So, ragazzi, siamo arrivati a questo piccolo vicino di Nesso, in fronte del lago Como. Siamo iniziando all'orrido di Nesso, è una spettacolare nuova, è vicino dal centro di questa piccola vicina, e sembra eccezionale a guardare e a scoprire, quindi andiamo ragazzi! Ciao! 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 la vista da qui è assoluta, puoi camminare molto, ci sono molte strade dove puoi camminare per ore e si rilassi proprio, quindi andiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!